Grande fermento è il caso di dirlo tra gli amanti del whisky. Dopo l'annuncio che una delle bottiglie più preziosi al mondo verrà messa all'asta, si tratta di un McCallan Adami 1926 che sarà battuta all'asta da Sofibis a Londra il 18 novembre. Potrebbe raggiungere oltre 1,2 milioni di sterline, un sapore da record. Il McCallan Adami 1926 è il whisky scozzese più ricercato al mondo a trascorso 60 anni in una botta ed è stato travasato poi in una delle 12 bottiglie con un'etichetta disegnata dall'artista italiano Valerio Adami nel 1993. Grazie.